Il sostenitori del Partito Democratico presenta un servizio sulla crisi del Partito Democratico. I sostenitori del Partito Democratico che amaramente riflettono e in questo servizio dicono. Ma povero Emilio, gli hanno sparato una canzone comunista che più comunista non si può. No, bisogna assolutamente rivedere la sua faccia. Il tappino è affranto. Non ha più neanche la forza di reagire. Ma io dovrei dire che siamo un manicomio. Ma sì, il TG4 è un manicomio. Guardate Emilio, che occhi spiritati. Mettetegli subito la camicia di forza. Sì, di forza Italia.